Qualcuno ha toccato i miei spaghetti? Il mio pure! I miei sono andati e la sedia è rotta pure! Qualcuno è in questa casa! Qui c'è un volto, ma non il corpo! Sono appena entrata! Tu vai a casa! Oh tesoro, lasciala stare! Lei è... No! Ne ho abbastanza! Hai mangiato i miei spaghetti! Hai dormito nel letto! È rotta la seggia! Vai a casa tua ora! No! No! Grazie a tutti.